Antonio Ricci risultato positivo al test per il Covid-19. Il Papa distriscia la notizia che ha compiuto 70 anni lo scorso 26 giugno dopo un confronto con i suoi medici è stato ricoverato all'ospedale di Albenga, città dove è nato. La notizia era cominciata a circolare nel pomeriggio, poi nella serata di ieri è arrivata la certezza. Il programma continuerà ad andare in onda regolarmente su Canale 5 con Altimone, sempre Ficarro e Picone. La sigla del TG Satirico è dedicata agli asintomatici per un'edizione nel segno dell'insofferenza. Sì, lo scorso anno siamo sembrati profetici dedicando l'edizione alla resilienza con quello che poi è successo. Ma l'insofferenza, la mascherina, il distanziamento, il tempo perso per seguire le nuove norme e invece il senso stesso dell'oggi ha concluso Ricci. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie a tutti.